Catania è pronta ad acquisire Comiso. La SAC, società di gestione dell'aeroporto Etneo, attraverso la controllata Intersac, acquisirà il 65% delle quote della Suaco, società di gestione dell'aeroporto Ragusano, mentre il 35% resterà al comune di Comiso. Una decisione che arriverebbe dopo un vertice a Fontana Rossa su consiglio dell'ex presidente dell'Enac e attuale consulente per il trasporto aereo del governatore musumeci Vito Riggio. Questo è un indirizzo che ci hanno già dato i soci, quindi è un'indicazione che ci dà l'Assemblea dei Soci all'unanimità. È anche un indirizzo politico che arriva al presidente della regione, che ha nominato il presidente Riggio, che dall'altro la sua esperienza dà un consiglio di buonsenso, che vede già noi lavorare in realtà da anni per fare sì che ci sia un sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Mi auguro che questo percorso si possa realizzare, non dipende da solo noi, perché ci sono in mezzo realtà societarie, ci sono dei commissari liquidatori, ci sono dei commissari giudiziari, quindi non dipende esclusivamente dalla nostra volontà, che è certamente comunque quella di seguire l'indirizzo che ci hanno dato i soci, oltre che il presidente della regione, di cercare di fare un sistema aeroportuale unico per la Sicilia orientale. Una trattativa fra commissari liquidatori e quando l'intesa verrà formalizzata verrà l'acquisizione da parte della SAC secondo le procedure. Noi come governo regionale, il presidente Musume ce l'ha ripetuto più volte, a nostro avviso dovremmo creare un'autorità unica in Sicilia, ma comunque due autorità, Sicilia orientale, Sicilia occidentale. In questa visione è chiaro che l'aeroporto di Comiso dovrebbe essere integrato all'interno di unica autorità aeroportuale, che è quella di Catania, perché non deve essere visto come un peso, ma come una potenzialità e un'occasione di crescita dell'aeroporto di Catania. A questo primo step potrebbe seguirne un secondo che prevedrebbe l'ingresso di investitori privati nel capitale sociale di SAC, mantenendo il 30% delle quote per rienti territoriali. Una mossa che punta alla crescita e all'adeguamento infrastrutturale dell'aeroporto di Fontana Rossa, che entro il 2040 dovrebbe aumentare esponenzialmente il flusso annuo di passeggeri.